Tra Acquirei e Re di Puglia, centinaia di bambini hanno salutato la visita del Presidente della Repubblica Mattarella per il centenario del milite gnoto sul Sacrario, il tricolore delle frecce. Primo comitato per l'Odine e la sicurezza per evitare i cortei in piazza Libertà a Udine. Intanto il sindaco Fontanini lancia un appello ai No Green Pass e siate responsabili altrimenti finiremo breve in zona rossa. Morde la nonna e la rapina dei suoi soldi che poi consegna a un cittadino extracomunitario. Il successo a Udine, il nipote, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo le polemiche dell'opposizione nella mentale dei residenti, ripartiranno domattina i lavori per la creazione della nuova pista ciclopedonale in via Cividale a Udine, questa mattina al sopralluogo. Pretenza sorprendente della Jolly Campoformino nella Serie B di Pallamano. I ragazzi di Bortuzzo con una formazione quasi tutta nel 17 hanno battuto Derzo e Musile. Alla prossima al derby con Trieste. Buonasera a tutti voi da Telefriuli. Ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale cominciata questa mattina da Aquileia alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni nel centenario del milite ignoto. Cento anni fa fu proprio la Basilica ad ospitare infatti la scelta del milite ignoto e da quel momento da Aquileia riposano le dieci salme che non furono scelte insieme a Maria Bergamas, la madre che fu incaricata della gravosa decisione. Il 29 ottobre del 1921, cento anni fa, la Basilica di Aquileia accolse le undici salme di altrettanti caduti sul fronte italiano della prima guerra mondiale per scegliere tra loro il milite ignoto. Sei giorni dopo il milite ignoto venne sigillato nell'altare della patria e i dieci che non furono scelti vennero sepolti nel cimitero degli eroi dove 30 anni dopo sarebbe stata sepolta anche Maria Bergamas, la madre che compì la scelta. Cento anni dopo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di rendere omaggio a quella scelta e all'inizio della storia del milite ignoto ad Aquileia deponendo una corona dall'oro al cimitero degli eroi e visitando anche la Basilica. Una visita fortemente voluta dal Presidente e accolta da centinaia di bambini con i tricolori. Noi siamo molto soddisfatti. Il Presidente aveva già predetto che sarebbe stato molto contento di essere qua a Aquileia soprattutto perché c'è un'altra parte della storia. Quando parte il terreno qui ad Aquileia restano 10 militi, quelli che non furono scelti all'interno della cerimonia del 29 ottobre 1921 e sono sepolti qui ad Aquileia. Noi li costudiamo gelosamente e con grande onore e proprio per questo abbiamo cercato di spingere di concerto fra l'altro con tutti gli enti che insistono su quel sito, la Basilica, le soprintendenze beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, la Regione stessa, Onor Caduti e la struttura di missione per gli anniversari nazionali. Siamo riusciti a restituire la luce originaria al cimitero degli eroi. Oggi il Presidente raccoglierà un momento di riflessione che ricrea quel momento di collegamento che cento anni fa si creò proprio con il viaggio, il viaggio che partì da qua e arrivò a Roma. Il Capo dello Stato si è poi spostato a Redi Puglia dove ha deposto una corona all'altare alla base della grande scalinata che ricorda i caduti per poi visitare il museo e la chiesetta sulla sommità del monumento. Si è voluto prendere un momento tutto per sé per rimirare il Sacrario e salutare i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Sacrario di Redi Puglia nell'unica finestra in cui il meteo ha concesso un po' di tregua. Sceso dalla macchina è subito salito all'altare dove la fanfara della Brigata Alpina Giulia ha intonato la canzone del Piave. Il Presidente ha quindi deposto una corona mentre le frecce tricolore hanno colorato il cielo con la bandiera italiana. Mattarella è stato accolto dal Ministro della Difesa Lorenzo Guarini, dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e tra gli altri il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin. Ha poi scambiato dopo la cerimonia ufficiale qualche parola con i ragazzi delle scuole Corridoni, Collodi e Venezian, rispettivamente secondaria e le due primarie del territorio. Mattarella è quindi tornata alla macchina per poi dirigersi in cima al Sacrario dove ha visitato il museo e la chiesa, recentemente ristrutturati, poi la partenza alla volta di Roma. Penso che sia un omaggio non soltanto alle persone che hanno combattuto per l'Italia, che hanno combattuto per i cittadini italiani, ma anche un messaggio per un'unità che non è soltanto un'unità nazionale, ma un'unità tra le persone, un'unità tra le comunità e penso che sia un messaggio particolarmente importante in un periodo come questo. Prima riunione questo pomeriggio a Udine per il Comitato per l'Udine e la Sicurezza, al fine di evitare i cortei in Piazza Libertà, rimane forte l'ipotesi di Piazza Primo Maggio per ospitare e radunare i manifestanti. Intanto il sindaco Pietro Fontanini lancia un appello ai No Green Pass. Siate responsabili, altrimenti finiremo a breve in zona rossa, ha detto, i danni sarebbero incalcolabili per tutti. Abbiamo valutato e soppesato la richiesta del sindaco, in linea un po' con quello che è successo a Trieste, col provvedimento che ha adottato il prefetto di Trieste, con situazioni che ovviamente si differenziano di volta in volta in ogni capologo di provincia. È stata valutata e è stata soppesata e stiamo valutando proposte da condividere, ovviamente soppesando le esigenze di libertà di manifestazione con le giuste e legittime aspirazioni e richieste dei commercianti e comunque di esercenti delle categorie che insistono nella zona. Sono in corso di valutazioni eventuali proposte alternative, ma su questo, ripeto, il dialogo, il confronto anche con l'amministrazione comunale è da d'ora in poi aperto. Faccio appello a coloro che manifestano, che adottino misure di sicurezza, che sono indossare mascherine, mantenere la distanza e se vogliono fare queste manifestazioni che le facciano in spazi il più possibile larghi. Ecco perché io suggerisco a loro magari di fermarsi in piazza Primo Maggio, in piazza 20 Settembre, senza arrivare in piazza Libertà che è una piazza stretta dove purtroppo gli spazi sono un po' compromessi. Però mi appello alla loro coscienza, alla loro attenzione rispetto a una situazione che purtroppo vede la città di Udine dove i casi purtroppo stanno aumentando di coronavirus. Quindi questo virus sta circolando e dobbiamo essere tutti responsabili per contenerlo, perché non vorrei che Udine tornasse una zona rossa con la chiusura di tutte le attività. sarebbe una cosa disastrosa per tutti noi. E la puntata di screenshot di questa sera dalle 19.45 proporrà le interviste integrali al prefetto Marchesiello sulla riunione di oggi al sindaco Fontanini. Spostandoci a Pordenone invece non ci sarà nessuna ordinanza di divieto per i cortei No Green Pass, che però avranno degli spazi dedicati per manifestare lontani dalle iniziative commerciali del centro. Nessuna ordinanza per vietare o limitare i cortei anti Green Pass, ma allo stesso tempo tutela garantita per i commercianti del centro storico e le manifestazioni in programma a Natale. Ha deciso così Pordenone con un compromesso di buonsenso dopo il comitato di pubblica sicurezza svolto oggi in prefettura. Abbiamo concordato insieme a Sua Eccellenza il prefetto, al questore, al comandante della Guardia di Finanza dei Carabinieri di utilizzare gli ordinari strumenti di legge che già sono messi a disposizione e che consentono di conciliare il sacrosanto diritto costituzionale di manifestare con l'attretanto diritto a non poter disporre di luoghi di piazza che saranno occupate da attività commerciali piuttosto che dagli eventi natalizi. Del resto già questo è previsto nei testi di legge, quindi non c'è nulla di nuovo. Noi vogliamo tenere i toni bassi, la piazza di Pordenone non è la piazza di Trieste. Il comune ora stilerà un piano con la mappa di vie e piazze off limits e poi spetterà le forze dell'ordine a gestire i cortei. Per il sindaco Ciriani l'arma migliore a Pordenone, dove non si sono registrate particolari tensioni, è quella del dialogo. Le manifestazioni qui si sono svolte in maniera anche piuttosto corretta rispetto ad altre parti, ma Pordenone ha dei dati molto diversi rispetto a quelli di Udine, Gorizia e Trieste. Forse anche perché in quest'ora il prefetto, il comune stesso, ha messo in atto tutti gli strumenti per cercare di tutelare la popolazione. Ripeto, c'è una parte che però vuole manifestare, non esistono e neanche possono pensarsi strumenti per impedire a chiunque di poter manifestare, dobbiamo solamente conciliare le due cose. E a Gorizia la riunione del Comitato per l'Odine e la Sicurezza è stata convocata per domani. Il prefetto Ricciardi farà il punto sulla situazione legata alle proteste dei No Green Pass, ma evidenza che non si sono registrate criticità nei giorni scorsi sul territorio. Anche Gorizia farà il quadro della situazione sulle proteste contro il Green Pass. Domani, infatti, il prefetto Raffaele Ricciardi riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, a cui prenderà parte anche il sindaco e il capoluogo Rodolfo Ziverna. Nei giorni scorsi la situazione in provincia non ha visto emergere manifestazioni grandi come quella nella vicina Trieste, con comunque diverse iniziative sparse tra Monfalcone e Gorizia. Proprio in città, nei giorni scorsi si è registrato il caso del consigliere comunale Franco Zotti, fatto uscire con le forze dell'Ordine dall'Aula perché è sprovvisto di Green Pass e da allora presente in Piazza Vittoria con un proprio banchetto. La situazione nella ex provincia di Gorizia sarà esaminata domani mattina nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ho convocato l'altro giorno proprio per fare il punto della situazione nella città e nella provincia di Gorizia. Da quando è entrato in vigore il Green Pass, soprattutto a Monfalcone, ci sono state alcune manifestazioni contro questo provvedimento? Tutte le manifestazioni legittimamente organizzate e preannunciate si sono svolte nel totale rispetto delle prescrizioni impartite da quest'ora a Gorizia da Monfalcone. Gli organizzatori hanno espresso liberamente e legittimamente le proprie posizioni ma tutto si è svolto regolarmente e senza registrare criticità alcuna. Intanto anche oggi come ieri in ragione si contano quattro vittime da Covid che portano a 16 morti. in una settimana un 79enne di Sgonico, un 63enne di Gorizia, una 90enne di Monfalcone e una 93enne di Ronchi dei Legionari. 153 nuovi contagi da oltre 4.400 tamponi molecolari e da più di 22.700 test rapidi. 18 i pazienti in terapia intensiva, 87 quelli in altri reparti. 12 contagi tra i dipendenti dell'azienda sanitaria e positivo, un operatore di casa di riposo. E da 93 casi positivi di tre giorni fa e 140 di oggi, di cui 5 hanno richiesto il ricovero in ospedale. Continua a crescere il focolaio Covid individuato dopo le manifestazioni, no green pass dei giorni scorsi. Sono i dati forniti dalla Task Force coordinata dal professor Fabio Barbone. dei 140 casi del focolaio, spiega il vicepresidente della Regione Riccardi. 129 persone fanno riferimento all'area dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e altre 11 persone a quella dell'azienda Friuli Centrale. Quasi la metà dei contagi complessivi, 69, sono di tipo secondario. Ciò significa che una persona si è positivizzata alle manifestazioni e a sua volta ha trasmesso il virus a chi invece non era presente ai cortei. Altre tre persone invece sono state contagiate da un caso secondario. Riguardo alle 5 persone ricoverate, 3 si trovano nel reparto di pneumologia e 2 in quello di malattie infettive. Tutti e 5 i pazienti ricoverati non sono vaccinati contro il Covid. È durata veramente poco la trasferta di Stefano Puzzer a Roma. Il leader dei manifestanti, no green pass, aveva la missione che si è conclusa poi con un foglio di via obbligatorio con un divieto di soggiorno per un anno a Roma. Ieri mattina il portuale triestino aveva pacificamente occupato Piazza del Popolo con un tavolino intorno al quale in poche ore si era creata una vera e propria manifestazione non preannunciata. A quel punto è intervenuta la questura di Roma che gli ha combinato il foglio di via intimandogli di fare rientro a Trieste. Entro le 21 di oggi, a quanto riferito, sarà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata. Il caso Petrillo, l'azienda sanitaria, commenta la condanna al risarcimento della Corte dei Conti. Prendiamo ato della sentenza della Corte dei Conti rispetto alla responsabilità erariale riconosciuta l'assistente sanitaria, nostra ex dipendente, ora tendiamo ai risvolti del processo penale che avranno i loro effetti. Lo afferma il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, in seguito alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha condannato la Petrillo, assistente sanitaria trevigiana, accusata di aver tinto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e fine 2015. Anche in alcune strutture del Friuli la condanne a risarcire l'azienda Friuli Centrale con 550.000 euro. Morde la nonna e la rapina dei suoi soldi che poi consegna a un cittadino extracomunitario. È successo a Udi, nel nipote, un ragazzo di 21 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Rapina la nonna 69enne di 70 euro, denaro che poi lancia dalla finestra dell'appartamento a un cittadino extracomunitario. Ad aggredire la donna immobilizzata e morsa a una mano il nipote, 21enne, un giovane con precedenti di polizia, arrestato in flagranza dai carabinieri della radiomobile della Compagnia di Udine. La 69enne che è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine non è in gravi condizioni, ha una prognosi di pochi giorni, ma è stata ritrovata in forte stato di agitazione. Il giovane è stato portato nel carcere di via Spalato, a Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio risale a qualche giorno fa ed è accaduto a Udine. Lo straniero cui sono stati consegnati 70 euro è fuggito sulle sue tracce, i carabinieri. Verso in gravissime condizioni, un ragazzo di 20 anni di Cividale che ieri sera al volante di una Golf si è scontrato frontalmente con una Clio sulla provinciale 49 ad Abeacco di Colorello di Monte Albano. È stato trasportato d'urgenza in ospedale grave, ma non in pericolo di vita. La conducente della Clio, una 21enne di Verzegnis, sono rimasti feriti seriamente anche i due 22enni che viaggiavano come passeggeri sul posto i Vigili del Fuoco di Udine e i carabinieri. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato poco prima delle 10 di oggi in un canale coderno di Sedegliano. Potrebbe trattarsi del 47enne di cui si erano perse le tracce una decina di giorni fa sul posto i Vigili del Fuoco e del distaccamento di La Tisana, i sanitari e i carabinieri. Una donna di 54 anni è rimasta intossicata in un incendio che è scoppiato in un'abitazione di Tavagnaco. Poco dopo le 16.30 di oggi è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine per lo spegnimento delle fiamme, la messa in sicurezza dell'abitazione e i carabinieri di Feletto Umberto. Detenzione di droga e fini di spaccio è l'accusa con la quale le fiamme gialle di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano di 29 anni, residente a 300, regolarmente assunto da una ditta friulana con l'impiego di una unità cinofila della Guardia di Finanza di San Giorgio. Lo hanno controllato nel parco Brun a Udine trovandolo in possesso di 52 grammi di cocaina del valore di oltre 5 mila euro nascosta in uno zainetto. Viene inviata da Quileia per soccorrere una ragazza di 19 anni coinvolta in un incidente stradale ma il sistema frenante si surriscalda e scoppia un incendio. È successo ieri sera e venire danneggiata un'autolettiga dell'ospedale di Palmanova che poi è stata rimossa e sostituita da un mezzo della Croce Rossa. Per la ragazza fortunatamente nessuna lesione, così come l'equipaggio sanitario. Nei lavori per la creazione della nuova pista ciclopedonale di via Cividale lunga Arteria Est di Udine dopo le polemiche dell'opposizione e le lamentere dei residenti. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo fra i tecnici comunali e la ditta appaltatrice. È capitata la ditta sbagliata che ha fallito. Ripartono i lavori dalla pista ciclopedonale di via Cividale. Dopo gli intoppi burocratici dovuti al falimento della ditta che si era giudicata all'appalto, i tecnici e gli operai della nuova impresa si metteranno all'opera, molto probabilmente da domani mattina. La conclusione dei lavori è prevista per il 14 aprile, quasi 3 chilometri di marciapiede da rifare nei prossimi 6 mesi. Sì, capisco ovviamente le proteste dei residenti che hanno dovuto subire questa interruzione. Purtroppo non è che sia imputabile al comune, come voi sapete, quando una ditta chiede il falimento, il concordato falimentare, insomma in qualche maniera purtroppo non è facile burocraticamente intervenire subito. Questa è la risposta chiara. Chiediamo a chi ha avuto l'opposizione che sa di questa problematica. La ciclopedonale partirà dal centro intermodale stazione FUC di San Gottardo e arriverà fino a Piazzale Overdan. Sarà larga a 2,5 metri e sarà transitabile da ciclisti e pedoni, previsto purtroppo all'abbattimento di alcune magnolie. Nella parte sud verranno tolti anche le magnolie per poter fare spazio alla pista ciclopedonale e invece nella parte nord rimarranno tutti gli alberi e verrà rifatto l'intero marciapiede. Comunità in lutto a Castions di Strada, Morsano e San Daniele per la morte di Don Domenico Vignu da 76 anni. Morto questo pomeriggio all'ospedale di Udine dove era stato ricoverato ieri sera in seguito a un aggravarsi di una patologia contro la quale lottava da anni. Seguiva fino a 5 mesi fa le comunità delle parrocchie di Morsano e di Castions ed era stato a lungo parroco di Rivignano. E' stato catturato il cervo che domenica scorsa ha incornato una coppia di coniugi vicino al Parco dei Cervi a Tarvisio. L'animale selvatico aveva causato lesioni molto serie a marito e moglie. Una coppia del posto sarà allontanato dalla zona dove si trovava fino ad ora e trasferito in uno spazio dove non avrà più contatti con le persone. Due giorni di addestramento a Pordenone per i Vigili del Fuoco e operatori del 118 che si sono esercitati in contesti particolari di grandi incidenti stradali impegnate oltre 60 persone. Nei giorni scorsi a Pordenone si è svolta la seconda edizione del corso congiunto tra Vigili del Fuoco e operatori sanitari del 118 sulla sicurezza e l'approccio al paziente traumatizzato. Due giornate di intenso lavoro degli operatori che si sono coordinati in esercitazioni pratiche su scenari complessi con il coinvolgimento di automezzi. Dopo una prima parte teorica in cui sono stati approfonditi i temi dell'approccio ai moderni autoveicoli gli equipaggi dei Vigili del Fuoco e i sanitari si sono misurati con le tecniche più avanzate che consentono tramite apertura di varchi negli automezzi incidentati il raggiungimento dell'infortunato e la sua estricazione nel modo meno traumatico possibile per la vittima. La simulazione di realistiche e geometrie complesse di incidenti stradali con vere autovetture posizionate ad hoc per simulare ribaltamenti o auto infossato è avvenuto nel piazzale della caserma dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Ha visto la vicendarsi nelle due edizioni di oltre 60 operatori provenienti dal frutto occidentale. Verrà ripetuto nei prossimi mesi per formare al meglio personale che pur provenendo da realtà operative diverse deve cooperare in un medesimo team multidisciplinare. Riduzione di un terzo dei termini relativi ad autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di procedure di valutazione ambientale, riduzione della metà dei termini previsti dalla normativa nazionale per le conferenze di servizi funzionali all'acquisizione di pareri e autorizzazioni senza contare che la Regione potrà poi individuare ulteriori semplificazioni amministrative sulle pratiche di propria competenza. Sono questi in sintesi i benefici previsti per tutte le imprese inserite all'interno di una zona logistica semplificata relativamente agli investimenti che riguardino nuovi insediamenti o ampliamenti. Lo evidenzia in una nota Confindustria Udine. Le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone logistiche semplificate, sottolinea la Presidente Anna Mareschi Danieli, sono di pubblica utilità e quindi indifferibili ed urgenti. Ed inoltre è prevista la possibilità di costituzione, una volta costituita la ZLS, di zone franche e doganali intercluse che consentano di operare in regime di sospensione di IVA e dazi doganali. I termini ridotti previsti per le procedure di riferimento sono perentori per cui, una volta inutilmente decorsi, gli atti si intendono resi in senso favorevole. Si tratta dunque di procedure semplificate e anche di tempistiche accelerate rispetto alla prassi normativa ordinaria che riguardano qualsiasi tipo di azienda di ogni comparto produttivo e di ogni dimensione, purché operanti all'interno della ZLS. Per capire chi beneficia concretamente dei vantaggi derivanti dalle ZLS, scordiamo le gradutorie regionali riferite agli incentivi all'insediamento. Negli ultimi tre anni, il 90% di nuovi insediamenti o ampliamenti hanno riguardato piccole e medie imprese. La paura di essere contagiati dal Covid frena i volontari più anziani, ma la 25esima edizione della colletta alimentare si tratterà sia in presenza che in maniera dematerializzata. L'appuntamento è per il 27 novembre. La paura del Covid fa rinunciare al volontariato soprattutto le persone più anziane e quanto accade in preparazione della 25esima edizione della colletta alimentare che in programma il 27 novembre si ripropone in presenza quale segno di speranza. È una sfida che vogliamo affrontare formulando tutte le ipotesi, spiega la portavoce del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, Clara Braidotti, sia per coinvolgere in sicurezza il maggior numero possibile di volontari che per consentire a tutti di fare del bene a chi si trova in difficoltà. Per questa edizione la colletta quindi sarà ibrida, nel senso che il numero di volontari in presenza per una giornata sarà inferiore rispetto al passato, sempre per motivi legati all'emergenza Covid. Ma chi vuole dare una mano lo potrà fare online, supportando nella settimana successiva la modalità dematerializzata, ossia l'acquisto di card direttamente alle casse dei negozi e supermercati che aderiscono all'iniziativa. In questi giorni al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia si sta lavorando per organizzare la colletta, spinti dai risultati raccolti nei momenti più difficili della pandemia, con l'aumento significativo di persone in grave bisogno alimentare, che a partire dai mesi estivi si è stabilizzato, e i problemi a svolgere tutte le operazioni di raccolta e distribuzione del cibo. Importante è stato il supporto di tanti imprenditori locali che hanno creduto nel lavoro svolto dal Banco Alimentare. Basta guardare i numeri, nel 2020 sono state raccolte quasi 3.000 tonnellate e distribuite a più di 300 strutture caritative. Pretenza sorprendente della Jolly nella Serie B di Pallamano, era già un successo esserci. I giovanissimi di Bortuzzo sono riusciti a fare molto di più, a battere due formazioni molto quotate nelle prime due giornate, sono quindi a punteggio pieno in attesa di confrontarsi con Trieste nel derby attesissimo regionale. Ne parliamo tra poco a Sport FWG, spazio anche all'Udinese, alla pallavolo, al calcio a 5 e al ciclocross. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro un prossimo momento di serata. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.